Sta per andare in onda, aspettando il palio di Aschi. Il palio di Aschi Nel nome del Santo Patrono e nella continuità della tradizione si proceda ora alla stima del palio da offrire alla collegiata di San Secondo. Giuro di bene e fedelmente adempiere all'estimo che mi viene affidato. Giuro di bene e fedelmente adempiere all'estimo che mi viene affidato. La consapevolezza della storia porta a certi momenti particolarmente emozionanti, addirittura a momenti topici, per esempio l'offerta del palio che si fa a San Secondo nel giorno della festa del Patrono. È una cerimonia antichissima, antica come il palio, forse un po' di meno, comunque sicuramente risalente al 1389, ripetuta tutti gli anni senza alcuna interruzione. Il sabato pubblicamente il palio per la corsa e il palio da offrire alla chiesa collegiata di San Secondo che abbiamo visto fuori viene stimato. Vale a dire, un gruppo di esperti si assicura che la misura del palio, cioè di questo lungo drappo di velluto, la qualità del tessuto, la sua forma e tutte le sue, come si diceva un tempo, dipendenze, siano conformi al solito. Significa colui che perizia il palio, che controlla che il palio sia conforme. non è nascosto, è lì, è un rotolo, è un rotolo di tessuto che deve essere in tacremisi, c'è quel rosso porpora cardinale. La lunghezza è l'unica cosa su cui si può transigere. A secondo dell'anno, del tipo di raccolto che veniva fatto, del tipo di clima che c'era stato in quell'anno, il palio poteva essere anche di 40 rasi. Ovvero, poteva essere lunghissimo e dare un'importanza maggiore a quel palio di quell'anno particolare. Nel nome del Santo Patrono, e nella continuità della tradizione, si proceda ora alla stima del palio per la corsa di settembre. Il velluto deve essere un velluto in cotone. Adesso, ai giorni nostri, è difficilissimo raperire il velluto in cotone, perché commercialmente, e ve lo dice uno che ci sta tutti i giorni all'interno, commercialmente si usa quello in poliestere, quello in viscosa, quello in cotone e rayon, che è quello che tutti decantano quale velluto tedesco. Qui invece viene richiesto un velluto totalmente in cotone, cioè tra mordito e filo a ponte, che devono essere tutti in cotone. E anche oggi siamo giunti alla fine, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, continuate a seguirci. Grazie a tutti.